Alessandra Amoroso, il gossip di Vampa, spunta il nome del nuovo fidanzato, tutti i dettagli. Pare che qualcuno stia facendo battere il cuore alla bella cantante Salentina, tutti i dettagli relativi al gossip sulla cantante di Galatina. Dopo il gossip relativo ad una relazione tra Alessandra Amoroso ed il cantante Aiello, nelle ultime ore si sta facendo strada l'ipotesi di un nuovo amore per la cantante Salentina. A far drizzare le antenne ai fan dell'ex allieva di Amici una story pubblicata poco fa sul profilo Instagram dell'interessata. Il momento giusto è all'improvviso, ed alcune segnalazioni provenienti dal sud Italia. La frase, corredata da un cuore disegnato a mano dall'artista, ha iniziato a far germogliare la curiosità in molti seguaci della cantante che sognano già un amore da copertina per la loro beniammina. L'esperta di gossip di Yanira Marzano, in mattinata, ha inoltre pubblicato nelle sue stories lo screenshot... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.